In collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Ruggia Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio Gruppo VG, Tenute Marta Rosa, Azienda Agricola Biologica Petacciato Modesto, San Giuliano di Puglia. Venerdì, ciao Federico, siamo ancora qua, ciao a tutti da Gigi Di Simio e Federico Costa, da noi che si tagliano un po' i nomi, tu ti chiami Federico, mi piace, dai, diciamo che ti diamo la cittadinanza, mi permetto, e penso che le persone a casa sono d'accordo con me, di darti la cittadinanza molisana d'onore, mi prendo questa licenza. Allora Federico, come stai, tutto bene? Bene, bene, bene. Ieri sei stato da noi, oggi è l'ultima delle tue otto puntate qui con noi ad In Cucina con lo Chef, e hai deciso di chiudere in bellezza con un qualcosa di molto, molto distintivo e molto identificativo della tua zona, perché torna il re in primo piano, diciamo, del tuo territorio, che è il famoso formaggio Montebore, che noi abbiamo già visto e tu ci hai presentato intero quando abbiamo preparato i gnocchi piastrati, e oggi invece ce lo stai facendo vedere, aperto, tagliato, a metà, questa forma. Allora, c'è il Montebore nella ricetta, io la leggo, risotto appunto al Montebore e ortica. Elencaci gli ingredienti. Allora, utilizzeremo olio e aceto per la mantecatura finale, riso, carnaroli ovviamente, ortica essiccata di Agricola Stella, sempre questa mia paesana, esatto, anche perché... Si chiama? Claudia Bandiani. Claudia, ciao Claudia, grazie. Che ci tengo che lei fa le revisioni auto, ma in realtà... Lei ha un'azienda di revisioni auto, però... Ha trovato i diari della bisnonna e ha iniziato a fare le conserve. Ha trovato? I diari della bisnonna. I diari della bisnonna. Ha iniziato a fare le conserve, adesso fa anche un po' gli essiccati, fa anche un po' le gelatine, fa un sacco di cose veramente, veramente buone. E poi l'ortica comunque da noi si usava tanto. Siccome tu tornerai qui il prossimo anno, ma per la parte dolci con la tua fidanzata, che andrà in onda sicuramente, ve lo anticipo, in quell'occasione se porterai con te in una puntata la tua amica... A noi fa molto molto piacere. Veniamo, portiamo le sue marmellate così facciamo un bel dolce come si deve. Va bene. Allora, siamo partiti di olio e aceto, riso, carnaroli, l'ortica essiccata, un po' di sale, il Montebole, che è il nostro protagonista, e il burro. E poi anche dell'acqua calda, che ho aromatizzato con sale e ortica. Ecco, tu ti sei avvantaggiato, cosa è successo? A telecamere spente hai scaldato dell'acqua... In cui ho reidratato l'ortica essiccata. Hai messo un po' di ortica essiccata e del sale. Esatto, adesso noi abbiamo un brodo aromatizzato all'ortica con cui cuoceremo il nostro risotto. E poi vedo che hai anche già preparato dei dadini... Di Montebole che andrò a mettere insieme al burro e all'olio in mantecatura finale. Va bene. Io, intanto che tu parti, proseguo a spiegare un po' questo formaggio. Che ripeto, nella nostra zona, nei negozi, anche al di là del supermercato, nei negozi specializzati, io personalmente non l'ho mai visto. Però, magari si trova, però chi vuole eventualmente preparare a casa questa ricetta, il Montebole lo ordina online. E ti arriva tutto. Ci sono aziende, basta scrivere Montebole. Quindi, è un formaggio unico. Intanto è un presidio slow food. Esatto. Formaggio unico che è riuscito a sopravvivere al passare dei secoli e a superare momenti di difficoltà, in cui ha rischiato addirittura di estinguersi per sempre. Verissimo. Questo formaggio prende il suo nome dall'omonimo Paesino, che è una frazione del comune di Dernice, della Val Curone, in provincia di Alessandria, appunto, che è la tua... Esatto, è la mia zona. ...di Castelnuovo. Spartiacre tra le valli del Gru e del Borbera, in cui viene prodotto ormai da secoli. Si utilizza, dunque, il Montebole, contiene il 75% di latte crudo vaccino. Esatto. Il 25% di ovino e poi c'è anche, diciamo, il 20% di ovino. E poi, tu mi dicevi, c'è un 5%, volendo, anche di latte di capra. Esatto. Quindi ci sono tre tipi di latte. Ha una forma che rassomiglia a una classica torta annunziale a più piani. e si pensa sia stata creata, prendendo ispirazione dalla torre di Roccata che si trova proprio nel castello di Montebole. E questo formaggio viene creato sovrapponendo, generalmente, loro le chiamano tre robiole, dal diametro decrescente. Esatto. Poi c'è anche la versione Magnum, che è proprio un bel Montebole, doppio di grandezza, che fa sempre la sua scena. L'ho capito. È una storia comunque plurisecolare. C'è da dire che nel secondo dopoguerra la produzione del Montebole è cessata improvvisamente. Perché le persone che si dedicavano alla preparazione sono emigrate verso le città e quindi nella zona tua, l'emigrazione di queste persone verso le città, si correva il rischio che le tradizioni, non solo del formaggio, si perdessero. Però in tempi più recenti, nel 1999, il responsabile del presidio slow food locale della zona ha rintracciato la signora Carolina Bracca. Conosco. Che è l'ultima depositaria della ricetta e della tecnica casearia tradizionale. E ha riportato così il Montebole alla gloria. Ha ridato l'infa vitale alla produzione. Quindi, diciamo che questo signore, bisogna dare gli atto, bisogna dare un grande merito. È un prodotto che viene definito, io ho fatto ricerche, no? Per quanto riguarda l'utilizzo in cucina, è davvero un prodotto fenomenale, dal gusto complesso, ma allo stesso tempo delicato. È davvero ottimo da gustare a fine pasto, sai, quando tu... Lo posso dire... ...formaggi. Perché ha un gusto latto e burroso, che si differenzia nettamente dagli altri formaggi. Per un finale che ricorda la castagna e le erbe di montagna. Addirittura viene usato anche per delle... si può mettere anche delle insalate sfiziose. Sì, ma si può usare anche per i dolci, volendo. Quindi è molto versatile come tipo di formaggio. Chiudo dicendo che il Montebole piemontese dà la consistenza corposa e dal sapore intenso e deciso. È quasi piccante. Oltre ad essere gustato su un prezioso tagliere di formaggio, può essere anche addirittura grattugiato su carni fresche. O sulla pasta, oppure usato per condire le paste ripiere, gli gnocchi. Ed infine, e qui vengo, per mantecare i risotti. E qui ti volevo, nel senso che oggi tu ci stai preparando appunto... Il risotto al Montebole. Ecco, quindi confermo latte vaccino 70%, 20% di ovino, latte di pecora e 5% di capra. Esatto. E quindi questo mix genera tutto quello che abbiamo scoperto, che ho scoperto e ho voluto condividere con chi è a casa, sul formaggio Montebole. Allora, a che punto è il nostro risotto, Federico? L'ho fatto tostare con un goccio di olio. Quando era bello incandescente, che non riuscivo a tenerlo in mano, il riso era pronto per tostato. A questo punto ho sfumato con il brodo aromatizzato all'ortica e adesso continuo a cuocere con poco brodo alla volta, fino a quando poi arrivo a due minuti dalla cottura, fuori dal fuoco vado a mantecare. Quindi... Un buon riso carnaroli ci mette tra i 16 e i 18 minuti. Oh, allora, noi ci siamo parlati prima di iniziare questa puntata, che è l'ultima purtroppo in cui tu starai con noi. Io direi, visto che il timer corre, mandiamo la pubblicità e rientriamo, quando rientriamo, mostriamo la mantecatura finale e l'impiattamento. Perfetto. Va bene? Federico Costa ci sta preparando il risotto e Gigi, noi due, noi, torniamo immediatamente. Non vi perdete la parte finale del risotto al Montebole e Ortica di Federico Costa. In Cucina con lo Chef. Allora, Federico, del Montebole abbiamo detto tutto. Esatto. Il risotto è pronto. Io adesso vado a mantecare. Pronto nella sua prima parte. Esatto. Adesso viene la fase... Più importante, che è quella che poi dà sapore finale, ovvero la mantecatura. Ho messo il burro, poi un pizzico di aceto. Addirittura l'aceto... L'acidità col cereale si esaltano molto bene. Ho capito. Anche un goccio di olio. Perfetto. E adesso... Iniziamo a far sciogliere il tutto. Praticamente questa è la fase in cui il formaggio si legherà al riso. Esatto. Tu hai già aggiunto il burro, vero? Ho già aggiunto il burro, ho già aggiunto l'olio e l'aceto. Ci metterò ancora un goccino d'acqua per tenerlo... Mi piace bello cremosi all'onda, ma è il risotto. Tu praticamente stai preparando una monoporzione abbondante. Però poi chi ci sta seguendo da casa, che decidesse di preparare a casa il risotto come questo, la stessa ricetta, trova nella sigla finale le dosi e le quantità per quattro persone. Perché noi, sai, abbiamo immaginato... Una famiglia tipo, classica. È una famiglia di quattro persone. Intanto che tu fai l'operazione, io ringrazio Angelo e Antonella Braccia, che come sempre, anche oggi, ci hanno mandato i fiori. E ringrazio il nostro amico Antonio Turbano, che ci ospita qui a... Come si chiama il paese dove siamo? Gu? Guglio? Guglio? Mi? Questo non me lo ricordo da un po'. Sì, vabbè, ma tu sei di Castelnuovo, non puoi... È vero che sei venuto un po' di giorni qui. Però, guglionesi, guglionesi. Salutiamo tutta guglionesi anche. E vi ricordo che potete seguirci anche sui social, eh? Cucina con lo Chef, Instagram, Facebook. Oggi è venerdì, oggi è l'ultima puntata che Federico starà con noi. E ha deciso di chiudere... Di chiudere alla grande questa partecipazione ad In Cucina con lo Chef. Allora, adesso... Questa è proprio una tecnica che adoperi per... Sì, l'ho imparata lavorando, anche questa. Diciamo, è quasi un'onda. Esatto. Eccolo qui. Le risaie, la zona del riso, non è molto lontano. No, ci sia nel Vercellese, da noi, che appunto in Lomellina. Eh, in Lomellina, appunto. Ci sono due zone principali. Breme, breme. Il paese della cipolla, in Lomellina. Della cipolla rossa. Ma poi con un po' di ortica, che è commestibile comunque. Sì, 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 l'ortica, comunque, da noi, nella nostra tradizione, c'è da sempre. Va sbollentata per togliere gli principi orticanti e poi si può mangiare. Da noi si usa per fare anche i malfatti, che sono una specie di gnocchi con la ricotta. Non capisco. E quant'altro. Bellissimo. È sicuramente buonissimo. Allora, Federico, prima di salutarci. È l'ultimo abbinamento. Sì, tu hai parlato, tu con Michele Travaglini, e avete scelto il bianco. Esatto, quello risotto, direi che ci sta sempre. Il fiano che ha addirittura, volete, gusti floreali, si sentono profumi. Tu quindi, con Michele, avete convenuto che il bianco, questo fiano, è perfetto. Va bene, risotto al Montebore, formaggio tipico della Val Borbera. Petrobera e Ortica. Ci abbinate un buon bianco ed è un primo piatto di altissimo livello. Va bene, Federico, io ti ringrazio. Grazie a voi davvero. Ti ringrazio per essere stato con noi in queste otto puntate. Ci hai presentato tante cose buone e diverse. Soprattutto hai portato alla ribalta nel nostro territorio tante materie prime, tante cose buone della tua terra che è, ricordiamo, la provincia di Alessandria, la valle Scrivia. In particolare anche le terre di Dertona che ci tengo, di cui comunque sono ambasciatore, ci tengo proprio a portare questi prodotti con me. Va bene, Federico grazie. Grazie a voi. Noi ci vediamo in autunno, ma non ci sarai tu con noi, ci sarà Alessandra e ci preparerà sei dolci. Perfetto. Va bene? Sì, benissimo. Ciao a tutti. Ciao. Noi ci vediamo domani che è sabato, ringraziamo ancora Federico, non possiamo, ma virtualmente abbracciamo tutti. Io abbraccio te, un saluto a tutta la tua famiglia. Grazie. E buon rientro. Grazie mille. Ciao a tutti, a domani in Cucina con lo Celle. Grazie a tutti. Arrivederci da Durbano Arredamenti, Caffè Monforte. Del Giudice, Il Fiore del Latte, Rouge, Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Resparmio, Gruppo Vegè, Tenute Marta Rosa, Azienda Agricola Biologica Petacciato Modesto, San Giuliano di Puglia.